Presidente della Prologo Bruno Ienco, grande soddisfazione per questa presentazione delle due sagre, quella del pesce spada e quella del pane di grano. Sì, confermo questa grande soddisfazione soprattutto perché per la prima volta, come dicevo poco fa nella conferenza stampa, per la prima volta si sta verificando questo evento, cioè le due prime associazioni, quella pellegrinese e quella dell'associazione turistica Prologo, insieme. È un momento significativo perché abbiamo voluto dare questo taglio per dimostrare alla città e a quanti ci ascoltano che Bagnara è unita. Abbiamo avuto anche la partecipazione diretta dell'associazione commercianti e dell'associazione Costa Viola-Courmet, l'associazione dei ristoratori, i quali, ormai l'ha già detto il noto chef Rocco Ianni prima di me, cucineranno per l'occasione tutti assieme. Ed è un momento veramente molto bello e, se mi consente, con tanto orgoglio da parte mia e da parte di tutti i sogni della Prologo. Presidente del commissario dell'associazione pellegrinese che da 26 anni organizza la sagra del pane di grano. Insomma, 26 anni sono tanti. Sì, sono tanti. Comunque è anche positivo questo fatto perché, siccome siamo stati sempre più o meno i soldi che organizziamo questa sagra, abbiamo acquisito esperienza e quindi abbiamo un pochettino raffinato quello che era l'organizzazione, tanto che riusciamo a servire più di 1.500 persone, quindi per un servire nel senso che ci sono 1.500 che comprano i buoni e quindi una presenza di quasi 2.000 persone. Oggi la parola d'ordine è stata sinergia, anche Enzo Maio in conferenza stampa l'ha ribadito, l'importanza di muoversi in sinergia e collaborando assieme. Sì, sì, l'ho detto in conferenza stampa e lo ribadisco anche qua perché effettivamente collaborare con il Comune, con la Prologo e con le altre associazioni del territorio, veramente secondo me è un obiettivo e un primario che dobbiamo porci tutti e soprattutto anche l'amministrazione comunale. Bene, quindi faremo così, il 5 di agosto degusteremo il pesce spada e il 7 di agosto appuntamento a Pellegrina per la 26esima sagra del pane di grano. Così degusterete il pane di grano che è Deco, l'olio di Covala che è Deco e tutti i prodotti tipici a chilometro zero, quindi tutti i locali. Presentazione qui a Bagnara Calabra del gran galà del pesce spada e della sagra del pane di grano. Costa Viola Gourmet sarà impegnata il 5 agosto con i suoi sei cuochi, con i suoi chef a preparare il menù della giornata. Sì, una bella serata, una bella presentazione anche perché è la prima volta che succede alla sagra del pesce spada che c'è la presentazione del sia del pane di grano che della sagra del pane di grano che il gran galà del pesce spada. Un'altra novità che dopo 53 anni tutti i ristoranti di Bagnara prepareranno ognuno di noi, prepareremo la nostra ricetta. Quindi sarà una bella serata, presenteremo due piatti Deco che è molto importante che presentiamo questi piatti e niente, al 5 agosto. Li prenderemo per la gola? Sì, sicuramente. Per Francesco Zoccali, presidente dell'Associazione Commercianti Bagnarese. Insomma, i commercianti hanno accettato entusiasticamente questa proposta del presidente della Prologo? Sì, assolutamente sì. Abbiamo aderito non appena il presidente della Prologo, Bruno Ienco, ci ha contattati. Ci siamo visti tra di noi per discutere di questa opportunità che può essere veramente un segnale, più che un trampolino di lancio, veramente un segnale per Bagnara, per dimostrare veramente questa comunione di intenti, questa comune volontà di realizzare qualcosa di positivo tutti insieme. È un passaggio importante perché comunque già dalle prime riunioni dell'Associazione Commercianti emergeva comune tra tutti i partecipanti, tra tutti gli aderenti a queste riunioni, la volontà di spingere quelle che sono le manifestazioni tipiche, le espressioni tipiche della bagnaresità. In questo caso la Sagra del Pesce Spada si può definire, insieme alla Sagra del Pane di Grano, uno degli eventi, se non gli eventi clou dell'estate bagnaresi, l'evento con cui l'estate di Bagnara viene identificata. Una volta, io sono relativamente giovane, però chi è più grande di me si ricorda come la Sagra del Pesce Spada e la Sagra del Pane di Grano fossero attese veramente come le due manifestazioni principi che segnavano veramente il clou dell'estate. Negli anni, magari la cosa è un po' scemata, adesso grazie all'impegno del Presidente Ienco, grazie all'impegno delle associazioni, grazie alla vicinanza anche delle amministrazioni, si è potuto realizzare un qualcosa del genere che è veramente un passaggio, ne discutevamo proprio con il Presidente Ienco, un passaggio storico, quello della collaborazione congiunta di associazioni, amministrazioni, proloco, non solo di Bagnara ma della Costa Viola, quindi con Palmi e Scilla coinvolte, proprio perché Bagnara deve essere collocata all'interno del circuito Costa Viola, deve essere promossa non solo come Bagnara ma come Costa Viola e quindi tutti insieme veramente si può realizzare qualcosa di positivo. L'impegno assunto con la proloco per la giornata del 5 di agosto si sostanzia in due iniziative, quella di una scontistica particolare e quella dell'allungamento degli orari. Assolutamente, sta già circolando un prestampato tra le varie attività commerciali dove le attività che aderiranno non solo sul corso Vittorio Emanuele ma anche nelle aree limitrofe ci sarà la possibilità non solo di aderire, quindi dare la propria disponibilità a tenere aperto. Noi l'abbiamo definito una sorta di mini notte bianca, proprio perché fino a quando ci sarà movimento le attività commerciali potranno restare aperte, ma anche e soprattutto di andare ad applicare una scontistica speciale, chiamiamola un prezzo speciale sagra dove i turisti, i visitatori che verranno a bagnare in quella sera avranno la possibilità di fare acquisti nei negozi aperti al pubblico anche fino a tarda ora della sera con un prezzo speciale dedicato ai visitatori della sagra. Quindi è anche questo un passaggio secondo me da sposare in toto, io mi auguro che saranno il maggior numero di attività possibili ad aderire e in questo modo veramente si può dare questo segnale di comunità, di sinergia che veramente si richiede al paese di Bagnara. Michele Spoletti, delegato alle attività produttive, insomma ha lavorato a questa presentazione, a questa iniziativa, lavora già da tempo e stasera c'è soddisfazione perché ha messo assieme due importantissime realtà di questo territorio. Sì, una grande soddisfazione perché dopo tanti anni le due manifestazioni vengono presentate insieme e sono legate da una cosa molto importante che vanno a valorizzare, a promuovere dei prodotti che sono a marco d'eco, a marco di denominazione comunale d'origine. Infatti quest'anno durante il gran grado del pesce a spada verranno serviti due dei piatti tipici e tradizionali di Bagnara Calabra che proprio quest'inverno hanno avuto il marchio d'eco che sono la pasta con la scuzzetta di pesce a spada e la parmigiana di pesce a spada e a sua volta nella saga del pane di Pellegrina c'è il pane di Pellegrina che già sappiamo è da qualche anno che ha il marchio di denominazione comunale d'origine e anche l'olio d'oliva di Covala che anch'esso ha il marchio di denominazione comunale d'origine. Quindi un ottimo traguardo, un ottimo risultato. Quindi diamo appuntamento a tutti al 7 di agosto e al 5 di agosto. A trascorrere qui a Bagnara delle piacevole serate sicuramente accompagnate da una buona cucina sicuramente anche ci sarà l'occasione, diceva prima il Presidente della Proloco che i commercianti insieme all'associazione commerciante garantiranno anche l'apertura dei negozi anche in notturna in modo tale appunto chi viene a degustare durante il Gran Galà o durante la saga può anche fare un giro per i negozi, degustare anche quello che di buono c'è a bagnare un gelato, la granita e così via.